uè non fare il tacco incacchiato da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quanto riguarda i prossimi giorni di fortnite oramai ci siamo mancano veramente meno di dieci giorni al termine finalmente della season numero 10 in questi dieci giorni sappiamo che arriveranno ancora le sfide a tempo straordinario quindi stili extra e altri premi per tutti quelli che vogliono completarle ma arriverà ovviamente anche l'evento di questa season evento tanto atteso unico evento in realtà della stagione e oggi abbiamo degli aggiornamenti veramente interessanti per quello che andremo a vedere nel video di oggi parleremo però anche di una mappa molto molto particolare che sta cominciando a girare in tutti i forum su reddit su twitter relativa alla season 11 dico particolare perché al suo interno ci sono delle location che non esistono attualmente su fortnite parleremo anche appunto del nuovo countdown quello che verrà mostrato nel cielo della mappa quando dropperemo in game e poi abbiamo anche dei video un video relativo ai bot quelli di cui vi parlavo nel video di ieri direttamente in game e non saranno proprio uguali a come vi avevo detto prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone e tutti quelli che ogni giorno mi guardano su twitch in live grazie di cuore ragazzi per supportare il canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima e anche se non c'ho la voce ve la faccio ugualmente ragazzi la domandina ci sta tantissimo grazie anche per tutti i commenti che mi avete lasciato nel video di ieri domanda di oggi molto molto personale ma te che voto daresti alla season 10 ve la faccio ogni volta che stiamo per chiudere la season e voglio sapere prima di vedere l'evento che potrebbe influenzarvi un pochettino cosa dareste da 1 a 10 a questa season io ragazzi escludendo che è una season da spammoni perché abbiamo un sacco di armi che spammano escludendo che ci hanno fatto dannare con i robot ma ricordando che abbiamo fatto praticamente un tour di tutte le season di fortnite beh io credo che un 8 glielo darei alla grande a me questa season è piaciuta tantissimo ditemi il vostro voto qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere ragazzi una parte di codice interessantissima come sapete ragazzi il 5 novembre uscirà un nuovo bundle già ufficializzato da ip games sappiamo che verrà presentato su tutte le piattaforme è il dark fire bundle in italiano il fuoco oscuro un bundle abbastanza dispendioso 30 euro di roba che ci vedrà regala regalare che ci vedrà dare tre skin tre backpack tre picconi tre coperture e un emote esclusiva il tutto dovrebbe essere leggendario picconi esclusi che dovrebbero essere epici ma se andiamo a guardare nei file di gioco stanno già preparando un nuovo bundle che si chiamerà team spirit bundle non sappiamo assolutamente quale siano le skin quali siano gli oggetti presenti nel bundle né il costo però hanno cominciato da una settimana circa perché questo tweet abbastanza vecchio a svilupparlo quindi ragazzi appena saprò qualcosa anche io lo saprete sicuramente anche voi e andiamo avanti con il prossimo argomento voglio appunto parlarvi un attimino dei bots come sapete ragazzi per chi non ha visto il video di ieri dalla season 11 verranno inseriti nelle partite dei giocatori bot quindi manovrati dal computer che non avranno ovviamente le capacità dei giocatori umani quindi non potranno guidare veicoli non costruiranno chissà come e soprattutto avranno tutti la skin di aim quella che praticamente abbiamo ottenuto nella season 7 se non ricordo male la particolarità è che questi bot avranno i pantaloni di colore verde voglio farvi vedere mentre ve ne parlo direttamente in game se lo riusciamo a far vedere eccolo qua il la skin proprio come vedete ragazzi è totalmente uguale a quella che noi abbiamo solo che la nostra ha i pantaloni rossi ed effettivamente quando fu liccato il colore verde tutti si chiedevano perché ci fosse e come mai non fosse disponibili adesso ci rendiamo conto che in realtà era da quasi un anno siccome l'abbiamo visto nella season 7 quindi a natale dell'anno scorso che epic games stava lavorando già sul concept dei bot e quindi sulla loro introduzione nelle partite quindi tanta tanta roba anche per questi bot ragazzi che ovviamente aiuteranno tantissimo quelli che hanno meno esperienza nel fare comunque delle partite dinamiche andiamo avanti con il prossimo argomento ecco qua ragazzi alcune immagini inerenti i countdown che apparirà in game e che starà ad indicare il momento esatto dell'inizio dell'evento queste sono semplicemente due immagini sgranate ma voglio farvi vedere un'altra immagine più ad alta definizione come vedete ragazzi siamo esattamente sopra il terzo magazzino quello in poche parole dove c'è il rocket e il timer verrà presentato come abbiamo già visto nelle altre season possiamo vederlo meglio in questa immagine probabilmente questo weekend o oggi o domani dovremmo in teoria vederlo finalmente ufficialmente starà ad indicare il momento esatto dell'inizio dell'evento dove vi ricordo ci saranno un po di cose particolari intanto l'evento si chiamerà the end quindi la fine sarà una modalità a parte alla quale dovremo accedere per poterlo vedere non si potrà killare nessuno quindi sarà proprio un evento no killing e sappiamo anche che chi dovesse arrivare in ritardo potrebbe essere direttamente teletrasportato in questa posizione appunto per assistere a ciò che accadrà live è sicuramente pazzesco più passano i giorni più passano le ore e più sale la voglia di vederlo anche da parte mia ovviamente saremo in live per viverlo insieme e andiamo avanti ragazzi con l'ultimo argomento di oggi quello ovviamente più interessante come sapete sono state sono stati liccati alcune location che sono incredibili perché sono tantissime beach bluffs camp code creative island dirty docks frenzy farm lazy lake power plant slarpy swamp sunny shore whipping woods e mountain meadows sono in poche parole location che lasciano intendere l'arrivo di una nuova mappa per la season 11 completamente rivoluzionata abbiamo un'immagine ed è proprio questa ragazzi dunque sta girando tantissimo questa immagine e le persone che la propongono sono anche leakers abbastanza importanti quindi di solito ci prendono io personalmente dico secondo me è un concept anche perché vediamo alcune delle location che vi ho elencato poco fa ma vediamo anche delle location che conoscevamo please park ce n'era un altro power plant che sarebbe l'impianto a pressione retail raw quindi un mix di alcune location vecchie e di alcune location nuove come vedete con al centro sempre sponde del saccheggio fulcro nevralgico di tutto quello che è successo in queste season di fortnite ragazzi io vi lascio con queste immagini che a me comunque sembra meravigliosa vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video news mi raccomando iscrivetevi al canale non dimenticatevi che io sono sempre tutti i giorni in live su twitch noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao